Salve e benvenuti su Hotspot Italy in questo video andremo fare un walking tour a Pozzolengo un comune che si trova a sud del lago di Garda che ci ha riservato delle bellissime sorprese e l'abbiamo scoperto casualmente nella nostra esplorazione a Castellaro Ragusello perché si trova proprio vicino ha un bellissimo castello ma la cosa che ci ha colpito di più è stato il suo imponente parco pubblico buon divertimento a 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